Termine ultimo il 31 di dicembre. Per la fine dell'anno i 250 lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure, azienda che fattura 60 milioni l'anno, conosceranno il loro destino. La fabbrica verrà chiusa e la produzione delocalizzata oppure arriveranno nuovi acquirenti capaci di garantire un posto di lavoro a queste persone. L'attuale proprietà turca infatti non intende vendere il prestigioso marchio ma non è nemmeno disposta a sobbarcarsi i costi di una produzione in Italia e dunque la soluzione potrebbe essere quella di trovare un socio italiano. In alternativa si punterà a smembrare l'azienda e a delocalizzare la produzione in nome di un aumento della redditività. In altre parole, secondo gli attuali padroni della fabbrica fondata nel 1860 o arriva qualcuno pronto ad aiutarli oppure i posti di lavoro dei 250 dipendenti della Pernigotti possono essere sacrificati. Per ora il governo è riuscito ad allungare i tempi di 30 giorni durante i quali bisogna individuare la soluzione per questa avvertenza che vede a rischio uno dei marchi più importanti del made in Italy. A un certo punto si era perfino parlato di un interesse della Sperlari, soluzione tuttavia per ora definita prematura. Di certo ad oggi c'è solo il dramma di questi operai la cui mobilitazione va avanti, fino a quando non otterranno quello che chiedono, ovvero il diritto di poter lavorare.